Grande pubblico per la ventiquattresima rassegna musicale in favore del calcite, sedicesimo concorso musicale Gianfranco Barulli. La giornata finale domenica scorsa 28 maggio quando nelle sale del Circolo Artistico di Arezzo si è svolta anche la prima edizione del premio Città di Arezzo. Un premio voluto fortemente dall'attuale amministrazione che vedeva come premio finale per l'artista vincitore, residente nel comune di Arezzo, un abbonamento al Teatro Petrarca. 389 gli iscritti di quest'anno, particolarmente soddisfatta il direttore artistico il maestro Greta Palazzini, in tutto questa edizione ha portato nelle casse del calcite oltre 4.000 euro. Per il premio Città di Arezzo ha trionfato Eleonora Niccolini al pianoforte seguita dal maestro Carlo Alberto Neri ad exequo Carlotta Valensin seguita dal maestro Elisa Boschi.